In più Europa non riteniamo le condizioni date di poter garantire il sostegno a un governo di cui non conosciamo niente, un vero e proprio oggetto misterioso. Non abbiamo l'abitudine di comprare a scatola chiusa, io non compro manco i saldi senza sapere cosa compro, figuratevi un governo. Quindi siamo nella situazione che ci dobbiamo riservare di esprimere un giudizio definitivo quando saranno più chiari gli obiettivi precisi e la composizione del nuovo governo, a partire da quelle che sono le richieste che vedremo attuate, in base a quello che noi siamo, ovviamente la questione europea, la questione della finanza pubblica, l'immigrazione, la questione dei diritti, la giustizia e la sostenibilità ambientale. Di tutto questo niente sappiamo e quindi l'oggetto misterioso è molto attraente, può darsi, però non è veramente comprabile a scatola chiusa, francamente. Grazie. Grazie.